Però anche qualche buona notizia, non facciamo solo dei ma, è questione di ore, finalmente è entrata in vigore la legge sull'etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti alimentari. In che senso etichettatura? Già da qualche tempo sapete che la carne, il pesce, ci deve essere la cosiddetta tracciabilità, cioè bisogna che l'etichetta, quando noi compriamo qualche prodotto alimentare, sia specificato la nazione, da dove proviene, l'azienda, il luogo di fabbricazione, di elaborazione, di trattamento, tutti i dati possibili e immaginabili. Nella carne si può risalire alla stalla dove quel capo di bestiame è nato, cresciuto e poi dove è stato macellato e così via. Importante è dove è la nazione di produzione. Adesso, da ieri, ogni prodotto alimentare, compreso il formaggio, ogni altra cosa, carne, salsicce, salami, salumi, tutto deve avere la tracciabilità. Questo è importantissimo, ma soprattutto sarà importantissimo se noi ci abituiamo a leggere, a guardare queste etichette, a scegliere, secondo me dovrebbe essere proprio lì il punto di partenza, il prodotto italiano e magari imparassimo anche a leggere, a capire bene se è specificata anche la regione. Più il prodotto è stato fatto vicino a noi dove abitiamo ed è più fresco, ci dà maggiori garanzie. Se io devo prendere un uovo e questo uovo so che viene dalla Liguria, dal Tigullio, magari è meglio che venga dal Mozambico o dal Vietnam o dall'Ungheria. Dico Ungheria perché si fanno tantissime uova in Ungheria. Ecco, vedete un po' voi, io penso che questa etichetta, benissimo, siamo i primi in Europa e ogni tanto qualcosa di buono, la famosa eccezione che conferma la regola, la facciamo anche noi. Però anche lì stiamo attenti, come i distributori di benzina c'è scritto il prezzo, ma se poi noi andiamo a prendere la benzina anche a chi la vende a prezzo altissimo, non serve a niente mettere il prezzo. Così l'etichetta, se l'etichetta ci indica bene tutto la storia di quel prodotto e noi lo leggiamo e quindi scegliamo, bene, se no è una spesa inutile, è tempo perso.